che cosa faccio? che cosa faccio? gioco un po' con la sabbia? no, faccio il bagno? no, sono anche bagnata, gioco un po' con i castelli? mi tu fai la piscina? no, luto! vogliamo fare uno scherzetto ad auri? ok lo sai cosa ho portato? eh sì, sicuro una caramella addosso no, 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 guarda cosa ho portato il uovo nella pancia vogliamo fare uno scherzetto ad auri? però mi raccomando lo devi tirare forte devi fare se no non ci rompe l'uovo capito? sei pronta luto? mi raccomando tiralo forte fai finta di niente ah, luto, andiamo vai scherzetto 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 cosa hai nella testa cosa in testa auri auri sei connessa guarda che fa bene l'uovo nei capelli e hai visto abbiamo fatto di nuovo lo scherzetto dell'uovo che è il nostro preferito non posso neanche dormire ludo scappa scappa ludo scappa ludo alzati per presto ludo scappa a mare a mare a mare scappa ludo scappa luli auri ti conviene buttarti a mare vai vai sciacquati i capelli brava auri aurora tutti i capelli afficcicati dall'uovo mamma me no auri posso anche prendermi il sole aurora fammi vedere se ce l'hai ancora in testa no va bene ti sei sciacquata per bene brava vai franci dobbiamo preparare la vendetta la vendetta stiamo preparando la vendetta franci hai detto pure io si metti un po di sabbia dove sta lo scarafaggio auri metti lo scarafaggio nascondilo nascondilo un poco qua e va così guarda aspetta qua ok non si deve vedere dai dai chiama chiama ludo ludo vieni a giocare con noi abbiamo preparato ludo vieni una bella piscina di sabbia facciamo i castelli vieni ludo vieni una bella piscina di sabbia allora vai giochiamo prendi quella formina perfetto vai entra entra ludo fai una bella formina su che bella questa piscinetta di lulu mamma mia prendi anche la sabbia qua dai guarda facciamo una cosa mantieni questo e butta la sabbia la filtriamo vediamo se troviamo le pietrine oh che bella questa sabbia prendi tutta la sabbia lulu vai facciamo la pizza vogliamo fare la pizza su 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 ah ludo prendi più sabbia prendi anche un po' qui lulu vedi qua c'è un sacco di pietrine o no? guarda qui quante pietrine vai prendi prendi filtra tutto guarda metti la sabbia qui dentro e fai così spazio e vediamo se entrami le pietrine Ludo, ci dobbiamo vendicare. Oggi è la giornata degli scherzi. Come ogni anno noi abbiamo fatto lo scherzetto dell'uovo ad auri. E quello che abbiamo fatto è la guara. Ti ha fatto trovare un bello scarafaggio nella piscinetta. Quindi è arrivato il momento di vendicarci con un bel gavettone. Perché lei sta sempre bella rilassata sulle tipi. E noi le diamo fastidio. E noi invece non la facciamo rilassare. Sei pronta per riempire il secchiello? Però devi andare zitta zitta senza farti vedere dietro. Sei pronta Ludo? Ludo sei pronta per riempire il secchiello? Però devi andare zitta zitta dietro senza farti vedere. Ok? Sei fatta male? Sei fatta male? Ludo, ma è sempre bello, vero? Lo scherzo dell'uovo. Quanto ci piace a noi. Aurora rimane sempre tanto male. Voi avete visto lo scherzo che abbiamo fatto l'anno scorso in piscina con l'uovo ad auri? E ogni anno si ripete. Perché ogni anno noi glielo facciamo. Perché ci piace troppo vedere la sua faccia. Adesso andiamo. Adesso andiamo. Dai, dai. Riempi l'acqua. Dai, riempi il secchiello. E' fredda. È fredda? No, papà, non è fredda. Vai, vai. Valore. Su, su. Vai, papà, vai. No, no, no. No, papi. Papi, papi, aiuta Ludo. Riempi il secchiello. Vai, papà, vai. Ludo. Quello che si combattono. Dai, dai, papi ti ha riempito il secchiello. Ludo. Sei pronta? Andiamo. E' che è arrivata via. Papà, ora. Di qua, di qua, di qua. Non ti devi far vedere. Ludo. Ssh. Ssh. Ludo. Vai, vai. Ssh. 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 scherzo scherze lo scherzo che voglio fare a quella nonetta malevica E ovvero quando lei si stenderà su questo bello sdraio Io questo lo metterò qui Così quando si stenderà nei capelli Brava, ma che bello scherzo mi ha pensato Dobbiamo aspettare che lei va a sdraiarsi però Ludo! Ma dove sei finita? Sull'altalena Ah, sull'altalena, riposati un po' dai Che stai in giro da tanto tempo Ti vuoi riposare un pochino? Dai mamma vai vai Che scherzo, che scherzo, scherzo Nudo, vogliamo fare lo scherzo a mamma Ludo, le piavono Listo quando lei si siederà Cato là ciò Questo dove lo scende Sotto, adesso la mano Qui, qui, qui No, no, no Mi interessa, mi interessa Eh, dove lo vuoi nascondere? Dove? Dove? Mettilo, muoviti che sta arrivando Posso sedermi? Ma certamente, ma per carità Ah no, ti voglio proprio rilassare un pochino ragazzi No, 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 che scherzo, scherzo, scherzo Che scherzo Alzatemi No Alzatemi Challenge No Challenge 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 Prova ad alzarti Adesso pianzi da sola Tiratemi su No, no, per tutti gli scherzi che c'hai fatto ti tiri tu da sola Nudo, tirami su No Luli No, tirami su No, challenge, provo ad alzarti Tirami su No, challenge, provo ad alzarti No, no, challenge, provo ad alzarti Tirami No, 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 no Vabbè ragazzi, il video finisce qui Noi vi salutiamo Speriamo che vi sia piaciuto Iscriveteci giù nei commenti quale scherzo vi è piaciuto di più Iscrivetevi e attivate la campanellina E lasciate tantissimi pollicioni In su Fatelo eh Ciao 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 Ciao